Ciao, buonasera, sono Cinzia e sono la barista di Ribalta insieme agli altri due miei colleghi baristi che sono Armando e Umberto. Allora, quando è nata questo circolo, per me è stato abbastanza naturale infilarmi dietro il banco del bar senza averlo deciso, insomma. È stato abbastanza spontaneo perché avevo già avuto qualche esperienza da giovane e avevo già lavorato in qualche bar e quindi è nata così e ho continuato a fare la barista, diciamo. E niente, sono contenta ovviamente di questa esperienza perché è stata molto significativa per me e la cosa più bella è sicuramente che siamo tutti volontari e assolutamente non c'è scopo di lucro e quindi è nato questo posto per noi e poi ovviamente anche per poterlo proporre e adesso che è diventato anche un po' più conosciuto ovviamente la soddisfazione è ancora più grande e amo molto il posto e anche i nostri ospiti e gli artisti che vogliono venire a trovarci. Siamo al decennale quindi questi sono i nostri dieci anni e quindi è abbastanza emozionante anche questa cosa. Grazie a tutti.